Per andare agli ordini dello start sono partiti. Si mette dietro Redinger, anche Endless Cliffs, Udine va in vantaggio con Calypso Music, Rosenquist e Aie Esplosiva a tiro a largo Bibi Cipolla, con Udine che passa davanti alle tribune su Calypso Music che è secondo in corda, di fuori Bibi Cipolla, poi Rosenquist e Aie Esplosiva a tiro a largo Bibi Cipolla. Queste le posizioni televisive, poi Endless Cliffs che precede Elusive Janis, Quebec, Affari Spenti, Udine, Bibi Cipolla, Calypso Music, Rosenquist, Aie Esplosiva, Pretzov, Endless Cliffs, Quebec, Elusive Janis, Affari Spenti. In coda Redinger, che corre sempre così, nel bene e nel male, parte sinistra e tracciato, nessun accadimento, Udine con di fuori Bibi Cipolla che lo fa camminare, poi Calypso con di fuori Rosenquist, Aie Esplosiva con all'interno Pretzov, poi Pretzov si sposta nella scia, e allora di dentro c'è Endless Cliffs che precede Elusive Janis e Quebec, Affari Spenti, ha qualche lunghezza Redinger, Bibi Cipolla, prova a andare su Udine, Calypso Music, Rosenquist, Aie Esplosiva richiesto, Pretzov di fuori con Quebec, in coda Endless Cliffs, poi Elusive Janis, Affari Spenti, sono molto lontani quelli dietro dai primi quattro, capeggiati da Bibi Cipolla che va sempre ai lati di Udine, Rosenquist è in posizione ideale, all'interno Calypso Music, Endless Cliffs, richiesto Pretzov, richiesto Aie Esplos, richiesto Udine, Bibi Cipolla preme, fa d'apripista per Calypso Music e Rosenquist, più vicini, Bibi Cipolla rompe l'indugi, prova la soluzione di forza, l'attacco di Udine, poi sono sempre vicini Calypso Music e Rosenquist, Bibi Cipolla, Calypso Music e Rosenquist che allungano, con Bibi Cipolla attaccato da Calypso che ora passa e prepara la difesa da Rosenquist, poi alleggo i tutti, sta volando anche Quebec, Affari Spenti, ma sono lontani, Calypso è in vantaggio, rincorso da Rosenquist che ci prova, poi Endless Cliffs, Redinger per Varchi, Bibi Cipolla è ancora in quota, Calypso, tanto Calypso e tanto Music su Bibi Cipolla e Rosenquist. Se ci stava Rosenquist, ci stava anche Calypso Music, come abbiamo detto in presentazione, uno paga 3, uno paga 11, come suggeriscono dal partenere, hanno ragione, vince Calypso Music, Michael Arras non butta via nulla, secondo Bibi Cipolla e terzo Rosenquist, 10, 6, 3, 2, quinto Endless Cliffs, sesto Udine. Questa è l'ultima San Rossore, la vittoria per essere precisi di Calypso Music è remunerata con la quota di 10,62, è tutto. Grazie a tutti.